Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo lunedì 28 febbraio. Perché è importante questa data? Perché è una data che io ho in testa da mesi ormai, parliamo circa di dicembre, dove ricorderete anche nei video precedenti o in tanti post, nelle dirette, nelle chiacchierate che abbiamo fatto, ho sempre detto io, fino al 28 di febbraio non mi esprimo sulla Corsa Champions. Vedremo comunque più avanti perché riporterò anche quello che ho scritto qualche mese fa. Ed essendo arrivata a questa data speciale possiamo iniziare a tirare un po' le somme, direi. Corsa Scudetto e Corsa Champions, valutazione Juventus dopo 27 giornate. A cosa possiamo ambire? Se siete pronti iniziamo subito, non prima però di aver scaricato OneFootball. Il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione. Quindi mettete in pausa il video per un attimo, andate in descrizione e cliccatevi il link e OneFootball vi aiuterà in questa nuova era, in questi ultimi mesi di stagione per la Juventus che potrebbero diventare un po' di tutto. In questo momento siamo aperti a qualsiasi cosa. C'è chi crede nello Scudetto, c'è chi crede nella Champions, c'è chi è super pessimista e pensa che non arriveremo nemmeno tra le prime quattro. Vedremo che tutte queste posizioni sono giustificate da tutti e su OneFootball potremo affrontare al meglio questi ultimi mesi. Fatelo, è l'applicazione sponsor di questo canale e ve la consiglio per rimanere aggiornati e monitorare tutto quello che accadrà sulla Juventus anche quando non siete in casa. Io per dire domani sarò al Carnevale di Venezia, non sarò in casa e quindi su OneFootball andrò a leggere tutte le novità lato Juventus. Che cosa succede? Questa è la classifica delle Serie A dopo le prime quattro giornate. La Juventus stava vivendo un incubo. Due punti in quattro partite, terzo ultimo posto con zero vittorie. Tra l'altro qua possiamo vedere, avevamo fatto quattro gol e ne avevamo subiti sei. In questo momento eravamo tutti super depressi. Super 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 depressi. Lato Juventus, ovviamente lato sportivo, lato calcio. E se n'era appena andato Ronaldo. Quando c'era Ronaldo la prima partita gli è stato anche annullato un gol e quindi non abbiamo ottenuto la prima vittoria stagionale. Insomma, non siamo partiti per niente bene. E sfido chiunque in quel momento lì, in quell'istante lì, a pensare a una stagione positiva per la Juventus o buona o qualsiasi cosa. Io in quel momento lì ero veramente molto molto giù di morale e pensavo dopo una stagione come quella dell'anno scorso in cui abbiamo fatto cose buone all'inizio e tremenda la fine. Ma è mai possibile che... E ho espresso un desiderio in quel momento. E cioè, dato che negli ultimi anni con Allegri, con Sarri e con Pirlo avevamo iniziato bene e finito male vuoi vedere che quest'anno iniziamo male e finiamo bene? Quello era il mio desiderio al vento. Vediamo a che punto siamo in questo momento. Questa invece è la classifica della Serie A dopo 17 giornate e cioè dopo Venezia e Juventus 1-1. La squadra era rincorsa, sì, ma al settimo posto. Decido di non esprimermi appunto fino al 28 di febbraio, cioè oggi. Questa è la partita proprio dopo il Venezia quindi quel pareggio col Venezia a metà dicembre. La settimana dopo io ero al matrimonio di Lello e in Sardegna mi sono visto la partita con Chino e tutti gli altri che è stato Bologna-Juve 0-2 e ricordo che anche nei video di Chino che abbia registrato insieme a Chino io gli dico, Chino, io non dico niente. Fino a fine febbraio non mi esprimo perché avevo dato un'occhiata al calendario comunque lo vedremo anche successivamente e non aveva senso parlare di Champions parlare di quinto posto, di sesto posto, di settimo posto perché guardate qui la Juventus a metà dicembre era settima in Serie A con una media punti di 1,65 a partita con 28 punti in 17 partite a 12 punti dalla vetta a 12 punti dall'Inter era impossibile in quel momento lì soprattutto per il calendario di gennaio e di febbraio potersi sbilanciare andare a dire qualcosa perché partita dopo partita sarebbe cambiato un po' tutto il giudizio e infatti cosa succede? io il 12 di dicembre quindi dopo il pareggio col Venezia dico continuo a ripetere che il quarto posto rimane utopia lo dico tutti i giorni su Youtube, su Twitter, su Twitch, ovunque e lo penso davvero dopo Venezia e Juve ne sono ancora più convinto la mia parte è razionale diceva quello e allora perché sento quella debole vocina dentro di me che dice il contrario e cioè che sarà possibile effettivamente arrivare al quarto posto? la situazione di classifica ve l'ho fatta vedere pochi istanti fa in quel momento lì eravamo settimi settimi con un calendario tra gennaio e febbraio da incubo e non c'era ancora questo signore qui Vlaovic che secondo me è un po' il giocatore a cui dobbiamo aggrapparci maggiormente lo dico lo dissi anche l'anno scorso con Ronaldo a un certo punto se vogliamo davvero pensare di fare cose fatte bene in Champions o vogliamo eventualmente prendere una rincorsa sull'Inter che ormai stava scappando via in campionato e che quindi stava andando a prendere lo scudetto dobbiamo aggrapparci a Cristiano Ronaldo perché in questo momento abbiamo veramente poche certezze nella squadra se non il fatto che Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo stessa cosa dico bene o male oggi e cioè l'abbiamo visto anche l'altro giorno con l'Empoli Vlaovic è il giocatore in grado di cambiarti la squadra la facciata della squadra perché l'altro giorno secondo me abbiamo fatto dei gol costruiti non singolarmente da Vlaovic perché c'è l'interciato di Arturo il passaggio di Quadrado il cross di Rabiot l'inzuccata di Ken il passaggio di Morata anche se sbagliato il contropiede avviato quindi le azioni sono state sviluppate da squadra che poi piaccia non piaccia il modo in cui viene espresso questo tipo di calcio questo è un altro discorso però poi la squadra le costruisce e Vlaovic va a concretizzare che è un po' il ritornello che ho tirato fuori per tutti questi mesi e cioè ci serve uno che in area di rigore sappia segnare riesca a capire dove la porta e ce la butti dentro quindi questo quel ragazzo lì che vedete qua secondo me è quello che che dobbiamo tenere a mente per questo finale di stagione questo era il calendario appunto gennaio febbraio capite bene no? perché a dicembre decido di dire fino a fine febbraio non ne parliamo non ne possiamo parlare Napoli Roma Inter con la supercoppa Udinese Sampdoria in Coppa Italia il Milan l'Elas Verona il Sassuolo in Coppa Italia che non sapevamo ovviamente il Sassuolo l'Atalanta il Torino la Champions con Villareale l'Empoli abbiamo fatto due mesi ragazzi gennaio febbraio allucinanti con mille scontri diretti ora ragioniamoci un attimo su queste partite perché in più di un'occasione ho avuto l'amaro in bocca e cioè finita la partita ho pensato Diamine potevamo sicuramente fare più Diamine potevamo far meglio Diamine non la dovevamo pareggiare la dovevamo vincere l'ho pensato col Napoli un Napoli rimaneggiato l'ho pensato nella Supercoppa dove non mi è piaciuta la prestazione l'ho pensato col Milan dove quello 0-0 ancora non mi va giù con zero tiri in Porta San Siro e poi febbraio diverso perché arrivano Vlaovic e Zaccaria c'è la rivoluzione no? l'Elas Verona mi dà quella speranza in più il secondo tempo col Sassuolo mi dà quelle conferme in più la partita con l'Atalanta mi fa masticare amaro perché la prestazione credo che sia stata una forse delle migliori in questo mese se non la migliore in assoluto e non siamo riusciti a trovare i tre punti anzi siamo riusciti a pareggiarla solo in Extremis ma vi dicevo quel punto lì di Danilo importantissimo pari col Toro il pari col Toro è proprio ai livelli del Venezia ai livelli del Venezia non mi andava proprio giù e poi il terzo pari di fila in Champions col Villareale e la vittoria dell'altra sera con l'Empoli tre punti d'oro pesantissimi Nedved l'ha definita addirittura decisiva ma io sono d'accordo con Nedved e ci arriveremo a parlare di questa cosa poi si può migliorare sì certo c'è da dire una cosa però guardato un po' questa schermata abbiamo perso una sola partita in due mesi che è la Supercoppa con l'Inter nei minuti finali supplementari tra l'altro avreste mai immaginato di ritrovarvi questa schermata a dicembre dopo il pareggio col Venezia guardando il calendario sapendo che eri al settimo posto dovevi rincorrere recuperare che il quarto posto passava da questi due mesi avreste mai pensato a questa schermata siate più onesti possibili io lo dico proprio tranquillamente no no e lo dicevo perché lo consideravo appunto utopia e per quanto secondo me in tante occasioni si poteva e si doveva fare meglio penso che ci si possa ritenere un sacco soddisfatti perché in Serie A non si è mai perso si è purtroppo perso il primo trofeo stagionale forse uno dei pochi che si poteva effettivamente portare a casa si è passati in Coppa Italia per ben due volte si è pareggiato in Champions fuori casa e non si è mai perso lo scontro diretto dall'altra parte c'è da dirlo non si è nemmeno mai vinto e arriveremo a parare questa roba però secondo me questi due mesi sono stati super positivi per la Juventus e lo vedremo anche tra poco questa infatti è la classifica della Serie A dopo 27 giornate cioè oggi l'Atalanta gioca questa sera ci arriveremo la Juve al quarto posto appunto l'Atalanta con due da giocare può arrivare a 50 pari punti a noi e quindi andare anche avanti ma è giunto il momento di esprimermi perché se fino adesso vi ho detto utopia 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 non posso più nascondermi il quarto posto ripende da noi nonostante l'Atalanta abbia due partite da recuperare bla 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 quello che vogliamo il quarto posto ripende da noi se vogliamo arrivare in Champions ci arriviamo lo dico tranquillamente se in questo momento vogliamo decidiamo di arrivare in Champions ci arriviamo ed è vero che se l'Atalanta le vince tutte è un casino ma sono dell'idea veramente che la Juve lo possa fare possa arrivarci non vi sto parlando di bellezza del gioco efficacia del gioco convinzione e tutte queste cose qua vi sto parlando nella maniera più pragmatica possibile e cioè la Juventus se vuole arrivare nelle prime quattro posizioni quindi in Champions League lo può fare lo può fare da utopia a lo può fare nel giro di due mesi ragazzi nel giro di due mesi per farvi capire quanto la materia calcio sia volubile quanto possa cambiare tutto in due mesi una posizione netta utopia contro un'altra posizione netta lo può fare arriviamo a parlare anche di altre cose ok perché questa invece è la classifica della Serie A 2020-2021 dopo 27 giornate la Juventus di Pirlo con 58 punti sarebbe prima nell'attuale campionato di Serie A oggi 58 punti in 27 partite sono circa una media di 2.15 punti a partita lo potete vedere l'Inter era già 65 era già scappata era un'altra Inter questo cosa significa io credo che questo vada a posizionarsi un po' in quello che fortunatamente dico da inizio anno credo che questo dato possa veramente confermare quello che dico da inizio anno e cioè che il campionato di Serie A con l'ultima campagna acquisti barra cessioni ha perso tanto perché ha perso Conte ha perso Lukaku ha perso Ronaldo ha perso Akimi ha perso Donnarumma ha perso De Paul ha perso tantissime individualità forti che sono andati a giocare in altri campionati a fare la fortuna di altri campionati di altre squadre chi più chi meno ovviamente perché poi c'è chi sta andando bene chi non sta andando bene e quindi il campionato di Serie A si è impoverito tecnicamente e quindi le squadre hanno creato questo campionato interno molto competitivo perché tutte sono lì l'Inter che l'anno scorso è stata la squadra che ha dominato stradominato stravinto meritatamente il campionato oggi è più umana è più simile alle altre e per quanto personalmente ritenga ancora l'Inter la numero uno la candidata numero uno allo scudetto sono dell'idea che questa crisi dell'Inter in questo momento stia facendo ricredere un po' tutte le altre squadre e come potete vedere il campionato dell'anno scorso che alla fine termina con il miracolo del gol di Faraoni e della traversa di Petagna l'ultimo secondo che ci permette di andare in Champions fino a undici giornate dal termine recitava così undici giornate dal termine capite quanto può cambiare in fretta capite quanto può cambiare dalla quarta giornata alla diciassettesima che sono tredici e dalla diciassettesima in cui vi avevo fatto vedere la classifica fino ad oggi che sono ventisette sono dieci e ne mancano ancora undici per quello vi dico è difficile dare dei giudizi definitivi secondo me è molto più logico dire in questo momento la penso così mi do un target di partite di mesi di settimane arrivo a quella partita specifica e tiriamo le somme fino a quel momento la vado a pensare così ma non devo vergognarmi eventualmente di cambiare idea a seconda di quello che accade perché in questo momento vi dico la Juve ci può arrivare assolutamente in Champions tra due mesi vediamo che cosa succede arriveremo a parlare anche di quello perché vi metto Juve Porto lo so fa ancora male però poi la Juve di Pirlo finirà appunto a 78 punti quindi una media totale di 2,05 punti a partita che significa che nelle ultime undici giornate di campionato farà 20 punti e cioè un 82 punti a partita poco 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 e cioè se la Juventus di Pirlo fino a quel momento stava andando anche abbastanza bene nelle ultime giornate crollerà completamente la gestione di Andrea Pirlo perderà probabilmente il polso della squadra il controllo della squadra e io stesso arriverò a pensare che il cambio in panchina sarebbe stato giustificato poi ovviamente bisognava capire chi andare a inserire in panchina poi che Pirlo aveva un po' perso di mano la gestione della squadra e vi metto Juventus Porto perché un'altra delle cose che ho sempre pensato e cioè da quella partita in poi scoppiato lo spogliatoio Ronaldo che non sembrava più Ronaldo che aveva completamente deciso di andarsene tutta la squadra che non riusciva più a esprimere il gioco non riusciva più a raggiungere i risultati che aveva fatto fino a quel momento e perché? perché la Champions e perché vale di più di tutte le altre e quindi vediamo cosa succederà in Juventus Villareal dove abbiamo fatto la migliore andata degli ultimi tre anni e questa cosa è impressionante perché avevamo perso all'andata sia con Sarri che con Pirlo ma l'esito di quella partita andrà veramente a determinare poi il futuro della Juventus perché lo sappiamo quelle partite lasciano o della carica o della depressione e ve l'ho dimostrato con la classifica di Pirlo fino a quella partita lì e la classifica poi come termina la stagione sono numeri non sono opinioni questi sono numeri fatti queste sono cose difficilmente contestabili e questa invece è la classifica della Serie A senza le prime quattro giornate ragazzi senza le prime quattro giornate disastrose che abbiamo visto prima ad oggi la Juventus sarebbe prima in classifica con 2.09 punti per partita ora facciamo un passo indietro io sono dell'idea che la classifica il calendario quello che è accaduto non si discute quello è e tutti possiamo fare il giochino del è il rimpianto è quella partita e se fosse andata così e se fosse andata quella sì lo possiamo fare il giochino fa parte del del gioco di essere tifosi anche ma non si contesta quindi questa classifica non è giusta perché le prime quattro giornate non le puoi togliere hai fatto schifo nelle prime quattro giornate e te le tieni però quando mi dicono sì però è inutile parlare delle prime quattro giornate perché poi comunque le hai fatto schifo sì ma le prime quattro giornate se le togli la Juventus è prima in classifica il che significa che dalla quinta in poi dalla quinta alla ventisettesima la Juventus è stata la miglior squadra in Italia e qualcuno potrebbe dirmi sì però la Juventus sarebbe prima perché il Milan l'Inter e il Napoli si sono suicidati allora io dall'altro canto vi dico sì e allora in questo momento sono primi perché la Juventus nelle prime quattro giornate si è suicidata e poi si è suicidata con l'Atalanta si è suicidata col Toro si è suicidata col Venezia tutte le squadre si vanno a suicidare per quello che non regge il discorso del eh sì però se toglie quello no non esiste però dei segni di miglioramento ci sono e sono evidenti anche questi sono numeri cioè la Juventus dopo una partenza horror si è ripresa e si è ripresa alla grande e sarebbe prima e ancora una volta secondo me perché perché il campionato si è livellato molto verso il basso con la campagna acquista e cessioni di questa estate dove la Juventus prova a dare un colpo al cerchio non la botte con Zaccaria Vlaovic in inverno dopo che si rende conto che appunto Cristiano Ronaldo aveva creato un gap tecnico troppo elevato mancava il finalizzatore e soprattutto le prime quattro giornate sono state complicate anche per l'addio di Cristiano Ronaldo il caos che alleggiava all'intorno quindi con i secoli ma non si fa la storia però sicuramente la curiosità di capire in una linea del tempo parallela la Juventus che cede Cristiano Ronaldo a luglio e compra Vlaovic a luglio cosa sarebbe accaduto chiamiamo Enrico Ruggeri facciamo una puntata del bivio questo per dirvi di in questo momento non vedere il bicchiere mezzo vuoto non vi dico nemmeno di vederlo mezzo pieno ma vi dico di contestualizzare questi numeri e cioè che la Juventus non sta facendo male poi secondo me e lo dico da inizio anno il Napoli sta veramente overperformando rispetto alla sua rosa ed è qua che io voglio fare i complimenti al Napoli perché anche Iriiser la vittoria di Iriiser all'ultimo secondo fa capire che loro sono completamente dentro la lotta a Scudetto e forse saranno addirittura la squadra che andrà a vincere lo Scudetto ma queste ultime giornate questi ultimi punti in pallio saranno pesantissimi e l'abbiamo visto compirlo l'anno scorso ci sono dei momenti in cui l'allenatore non deve solo dare in campo deve mantenere il polso della squadra deve usare il pugno duro e tenere in mano la squadra qualsiasi cosa accada perché in queste ultime giornate ti giochi tutto e quando finisce il campionato non hai più possibilità di rimettere in piedi raddrezzare la classifica finisce tutto quindi queste ultime 11 giornate di Serie A secondo me saranno importantissime e saranno una lotta vera e propria andiamo avanti perché miglioramenti miglioramenti secondo me sono evidenti nei risultati singoli delle partite e lo abbiamo visto dalla cui tempo la Juventus ha fatto risultati ha fatto vittorie anche se in quel momento alla fine della partita quel pareggio specifico abbiamo pensato diavolo dovevamo fare più potevamo vincere o in quella vittoria abbiamo pensato sì però abbiamo fatto veramente male sì però i risultati ci sono sono evidenti sono concreti li puoi tastare con mano la continuità la continuità dare continuità fare un filotto di vittorie di pareggi risultati utili e tante volte io mi sono ritrovato lì a dire sì però il pareggio porca vacca sì però il pareggio porca vacca e Allegri ce l'ha detto sì li metti tutti lì i pareggi alla fine vedrai che torneranno utili ed è vero diavolo ed è vero e per quanto io stesso non la voglio ammettere sta cosa perché ci sono stati dei pareggi che non mi vanno giù è vero un'altra cosa in cui siamo migliorati è il non arrendersi nonostante i tanti assenti perché purtroppo in questo momento siamo disastrosi e sugli infortuni della Juve ci serve la possibilità di fare un nuovo video magari lo faremo a parte ne parleremo ma in questo momento abbiamo tantissimi assenti e siamo comunque riusciti ad andare a fare risultato a Empoli e lo so che per qualcuno sentire la Juventus va a fare risultato a Empoli sì è nella norma sì è vero è nella norma ma è una Juventus in una stagione difficile in cui sta cercando di riprendersi e con nove assenti in questo momento vedremo poi Zaccaria anche su Buon Football che cosa avrà dato che stamattina era fare gli esami poi da migliorare la gestione del vantaggio perché tutte le volte che vai in vantaggio poi succede che magari ti vanno a pareggiare ti schiacci un po' troppo e queste cose non vanno bene e nel percorso di crescita queste ci vanno è anche vero che io sono convinto che una partita come quella dell'Empoli o quella della Roma stessa che sono state partite un po' matte a inizio anno non le avremo vinte perché fa parte dei miglioramenti poi c'è da migliorare la gestione del vantaggio e cioè quando vai in vantaggio devi finire in vantaggio senza bisogno di dare la possibilità agli altri di riaprire la partita e sono cose che vanno assolutamente migliorate al pari della fase offensiva perché abbiamo visto che nonostante l'Evento sarebbe stata prima senza le prime quattro a livello di gol assegnati saremmo stati ancora carenti poi sì abbiamo fatto metà dell'andata metà girone d'andata anzi tutto il girone d'andata metà campionato senza l'attaccante il finezzatore Vlaovic è arrivato tardi bla 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 però dobbiamo comunque migliorare anche con Vlaovic lo sappiamo ci abbiamo fatto vedere i risultati di queste partite e soprattutto la pareggite perché negli scontri diretti non abbiamo ancora mai vinto e ora di scontro diretto te ne manca uno solo e ve l'ho messo qui di qua qui qui di qua che sono Allegri e Zaghi scontro diretto per modo di dire perché comunque l'Inter è una candidata allo scudetto non al quarto posto però in questo momento con l'Inter in crisi di risultati di gol di gioco stesso perché l'Inter era il miglior attacco della Serie A aveva iniziato a far vedere delle robe incredibili prestazioni risultati tutto fantastico ma l'Inter adesso si è crepata l'Inter in questo momento è in crisi nera e sono convinto che ora in Zaghi gli interisti saranno preoccupati di venire a giocare allo stadium contro questa Juve che bella non è fantastica non è c'è una coda di un gatto davanti però il risultato te lo fa perché è più squadra è diventata più squadra che non è una squadra spettacolare ma è una squadra concreta è una squadra pragmatica è una squadra che ricalca molto la mentalità di Allegri e cioè risultato e poi vediamo risultato e poi vediamo Allegri tra l'altro aveva detto una cosa qualche settimana fa che a me non era piaciuta per niente e lo ricorderete cioè a fine febbraio vorrei avere lo stesso distacco rispetto ad adesso era la partita successiva l'intervista successiva la vittoria col Cagliari eravamo tipo a 4-5 punti dall'Atalanta una roba del genere e Allegri disse con tutti questi scontri retti ci farei la firma arrivare a fine febbraio con almeno 4-5 punti di distanza dall'Atalanta o dal quarto posto ora al quarto posto anche se tutto va male ci sei distante 0 il che significa che sei avanti 4 punti sulla tabella di marcia che aveva fatto Allegri e se l'altro giorno ci ha detto la quota Scudetto 85 punti e quindi noi non ci possiamo arrivare io invito a non prendere per serie le parole di Allegri perché anche in questo caso ce l'ha dimostrato ci sta trollando brutalmente io sono convinto che Allegri creda nello Scudetto cosa che non sto facendo io sono convinto che Allegri stia lavorando per incastrare un 5 maggio 2.0 che sarebbe ancora più incredibile sarebbe il ventesimo anniversario del 5 maggio sarebbe una roba assurda in cui andiamo a giocare l'ultima Firenze contro la Fiorentina di Vlaovic quindi dell'ex Fiorentina di Vlaovic quindi veramente sarebbe qualcosa di assurdo io ancora una volta ve lo dico non ci credo ma sono davvero convinto che invece Allegri abbia in mente sta roba qua e questo è il calendario di marzo e di aprile perché dovremo andare a riaggiornarci al termine di quel Sassuolo Juventus che non sarà una partita facile Sassuolo ha battuto la Juve ha battuto l'Inter ha battuto il Milan ha pareggiato col Napoli e ha pareggiato all'ultimo perché aveva addirittura fatto il gol della vittoria quindi stiamo parlando di una squadra che ha messo in serie difficoltà tutte le prime classificate in Serie A e l'abbiamo visto anche in Coppa Italia comunque che è una squadra molto ostica mercoledì alla Fiorentina poi iniziano delle partite un po' più semplici in Serie A che dovrebbero tradursi in tre punti assicurati e che sarebbero trappole vere e proprie perché se vinci hai fatto il tuo se non vinci sei un coglione perché la dovevi vincere quindi iniziano delle partite difficili per quanto facili sono le più difficili perché l'hanno sempre detto lo scudetto lo vinci con le piccole l'hanno sempre detto con le piccole con la migliore difesa quindi a meno che non sia cambiato qualcosa ce l'ha dimostrato ancora una volta che l'Inter il Napoli il Milan stesso stanno iniziando a frenare con le piccole e noi dato che siamo in ritardo sulla tabella di marcia non possiamo assolutamente farci fregare poi c'è il ritorno in Champions con il Villareal e lo sappiamo l'ho detto prima sono quelle partite un po' particolari che ti segnano vanno a modificarti anche un po' la stagione poi c'è lo scontro diretto con l'Inter di cui parlavamo prima dove loro si cagheranno addosso ma se arrivi a quello scontro diretto se dovesse succedere qualcosa di assurdo a pochi punti di distanza lo andresti a vivere a giocare con tutto veramente un altro entusiasmo e un'altra carica poi ancora il Cagliari il Bologna il Sassuolo squadra che devi fare risultato devi portare a casa la vittoria in maniera pragmatica proprio la vittoria e poi c'è il ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina che potrebbe garantirti un eventuale finale per andarti a giocare un altro trofeo quindi capite che come i precedenti due mesi da dicembre a febbraio ho detto diavolo è utopia assolutamente utopia all'ingresso in Champions ora vi dico invece il calendario è più la nostra portata ma ci sono alcune partite molto delicate come l'Inter Villareal ritorno con la Fiorentina quella con il Sassuolo e partite che devi vincere punto che non me ne frega niente della prestazione devi vincerle punto che sono Spessia Sampdoria Salernitana Cagliari Bologna e quella con il Sassuolo sarà un po' più complicata invece da dire vincere punto questo pretendo e per quello che vi dico quarto posto dipende da te perché tu puoi fare risultato contro queste squadre assolutamente e quindi qualcuno mi dirà beh allora mi stai dicendo che crede nello scudetto invece io ve lo dico tranquillamente al 28 di febbraio ve lo dico non credo nello scudetto lo penso davvero recuperare 7 punti a Milano e Napoli e 8 virtuali all'Inter contemporaneamente perché non si pare di recuperarne a uno a uno ti potrei anche dire ma magari succede per me è pur utopia io mi concentro sull'Atalanta che ha le due gare in meno e ci può agganciare a 50 punti mi concentro sul ritorno del Villareal mi concentro sulla Corsa Champions vincere quelle partite che vi ho detto mi concentro sull'andata e ritorno con la Fiorentina perché voglio arrivare in finale di Coppa Italia e qualcuno mi scrive fu così che a maggio ci ritroviamo primi spiegabilmente e io dico beh speriamo però questa volta la vocina che vi dicevo dicembre non la sento la vocina della vittoria dello scudetto non la sento ed è per questo che oggi sono tranquillo sono rassegnato me la sono messa via secondo me lo scudetto non lo vinceremo secondo me d'ora in avanti dovremo giocare per andare il più lontano possibile in Champions per andare il più lontano possibile in Coppa Italia e per arrivare in zona Champions poi vediamo che cosa fanno le altre perché se noi ragioniamo sui nostri obiettivi le nostre priorità quello che dobbiamo fare noi e lo facciamo bene ad oggi io sono soddisfatto poi se dovesse aprirsi inspiegabilmente la lotta a scudetto perché Milan, Napoli e Inter vanno a scoppiare tutte e tre io non mi tiro indietro non sono timido lo prendo volentieri se non lo vuole nessuno sto scudetto lo prendo volentieri io ma tutto questo per farvi capire che la Juventus con tutte le critiche con tutti i magoni con tutte le partite anche non convincenti tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso in realtà non sta facendo una brutta stagione adesso sta facendo una stagione io direi buona in questo momento direi buona poi secondo me ci manca qualcosa ci manca sempre quel centesimo per fare l'euro perché tutte le volte che siamo lì lì poi magari scivoliamo molliamo la presa avendo vinto quelle due partite in più chissà che cosa ma è sempre lo solito discorso perché allora il Milan dice avessi vinto con la Salernitana avessi vinto con l'Udinese se avessi vinto con il Genoa se non avessi perso il suolo quindi non hanno senso queste cose non hanno senso però per farvi capire che concretamente e lo dicono i risultati la Juventus dalla quinta alla ventisettesima è la miglior squadra in Italia l'avreste mai detto? io non ci avrei scommesso neanche un euro né dopo la quarta partita quindi dopo il Milan 1-1 col Milan e nemmeno dopo l'1-1 col Venezia e nemmeno dopo il 2-3 con l'Empoli eppure i numeri dicono questo e cioè che la Juventus è ad oggi una squadra pericolosa le altre hanno tirato il freno a mano dopo una partenza super e che ora si cagano un po' addosso tutti a giocare contro la Juventus non credo nello scudetto credo alla grande al quarto posto ma come era utopia il quarto posto due mesi fa e per me utopia lo scudetto oggi vediamo cosa succede tra due mesi ci diamo appuntamento al 24 di maggio dopo un un bellissimo anzi di aprile dopo un bellissimo Sassuolo Juve vediamo che cosa succede fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti perché se vi fate un giro sotto il post che avevo pubblicato dicendo l'utopia la vocina qui e là ci sono una marea di commenti che mi dicevano spegni la vocina se senti le voci sei un pazzo se credi anche solo che si possa riaprire il quarto posto sei matto il quarto posto è un miracolo e ad oggi sei a virtualmente otto punti dal primo e a decisamente sette punti dal primo dipende da cosa fa l'Inter col Bologna nel recupero quindi sicuramente la Juventus in questo momento ha fatto dei miracoli e il mercato invernale ha aiutato tanto vediamo se è questo miracolo fino a dove ci si può fino a dove può spingersi fino a dove può arrivare a dove ci si può